ciao a tutti da me da rosettino molto bene allora oggi siamo qui con una nuova rainbow della pacific coast simon summers molto molto bene lei è strepitosa bellissima incantevole vediamo subito che cosa si vede dalla scatola allora avviciniamo si vede che lei è bellissima ha su un berrettino il costumino e il copricostume ha su delle ciabattine che sembrano molto carine in confronto a quelle che va su bella poi non si vede nient'altro c'è il pettinino là dietro appoggiamo no così ho sbagliato le misure avvediamo un po gli occhialetti la borsetta e dietro la savietta molto molto bene per quanto riguarda il test dei capelli secondo me è super ingellata vedete è super soprattutto di qua secondo me perfetto ora levo dalla scatola così facciamo subito il test dei capelli molto bene ok allora ho già tirato fuori anche praticamente tutto però prima di farvi vedere le altre cose prima di fare cose se no mi dimentico facciamo subito il test dei capelli di questa bellissima signorina ma sono durissimi quanto gel quanto gel eh sì eh sì che poi lei ha i capelli abbastanza dritti a quanto pare ma perché rovinarli così perfetto e poi tutto quello che si vede qui qui dietro c'è il suo pettinino e poi lei e poi la vado a tirare fuori e intanto prima di vedere lei vediamo tutte le altre cose che arrivano con lei ho trovato questo qua che spiega comunque come allacciare cose come cambiare gambe perché anche per lei sono arrivate il cambio di gambe questi con i piedi piatti vuol dire che ha su quelli con i piedi con la punta quindi mi va più che bene e intanto vi faccio vedere eccoli qua questi li metterò via perché non mi servono avendo già sul piede che voglio poi arriva questa borsina che non ho praticamente elevato dalla plastica lo faccio con voi perfetto devo dire che è davvero molto bella con questi riflessi qua di riflessi sfumature ecco rosa e poi va giù tipo cos'è un pesca fino al giallino con tutti questi simbolini poi guardate che bei dettagli qua c'è questi ciondolini questa cordina qua ma è bellissima e dentro ha questa plastica qua che non la terrò su perché comunque la borsa è abbastanza rigida anche senza molto bene poi che cosa arriva arrivano gli occhialetti ok eccoli qui guardate se magari mettesse a fuoco guardate quanto sono carini piccoletti così un po' a punta dove sono andati e vediamogli subito sono sempre questo color che cos'è color pesca corallo non lo so con tutti i dettaglini oro devo dire che questi sono davvero bellissimi non vedo l'ora di vederli su guardate che sciccheri pomettino guardate pomettino si sta facendo la pennichella su pomettino si bravo e poi abbiamo questo vediamo un po' com'è c'è scritto rainbow eye mettiamo fuoco con il naso e poi è tutto bianco altri plastichini ne ho già tagliucciati 4 ma quanto pare volevano metterne di più ok tic tutta bianca perfetto con gli occhialetti a forma di cuore con le palme il mare il sole un tramonto bellissimo e così veramente molto molto carino perfetto e lo mettiamo lì poi arriva lo stand che è sempre questo colore pesca corallo non lo so però è molto bello se però devo capire che colore è soprattutto nel quando secondo se dovranno fare i colori più un corallo secondo me non lo so comunque adesso vado a levare i mille mila plastichini di questa bella signorina e finalmente possiamo passiamo a lei ok occhiata velocissima al pettinino che è uguale allo stand metti a fuoco però per favore ecco qui e adesso passiamo a lei volevo farvi vedere che lei nel cappellino qua che cos'è una visiera aspetta che l'ho lasciata nella posa ha un plastichino qui e guardate quanto cavolo è ficcato dentro se mette a fuoco magari cioè è super ficcatissimo dentro poi ne ha un altro qui dietro è così ok e ne ha un altro qui ok così avevano praticamente plastichini che le avanzavano e le hanno ficcate dappertutto comunque adesso direi di fare una bella cosa ovvero di andare a levare questa visiera che non mi piace nemmeno un po' così poi possiamo finalmente e dico finalmente perché non ne posso più di questi plastichini guardarla tutta molto bene guardate che bella ovviamente che cosa è successo è successo che un pochino si è rovinata sia quella e io nel tagliuzzare perché non è stato così semplice comunque partiamo subito da qui basta plastichini questa è una visiera che cavolo ne so con questa apertura ma proprio attaccata così con le ciapetone quindi questo è metti togli due volte nelle nace nelle nace e se rompe quindi niente mettiamolo qui con tutti gli altri suoi accessori ok partiamo subito a vederle i capelli allora è sempre questo rosino pesca molto bello ha un sacco di sfumature bellissime guardate peccato che adesso c'è il gel cioè guardate qui cos'è sta roba guardate tic però è bellissima e poi ha questa pettinatura questo codino qua con questo ma che bello questo lo uso io mi piacciono un sacco questi romini qua che mettono ma veramente che colore è tipo oro e rosino mettiamolo qui che tanto poi lei ha questa pettinatura ma tra la roba qui c'è un buco è sceso ecco è tenuto con questo codino qua io poi vado a togliere tutto per fare lo shampoo e poi le rifarò qua il suo codino molto bene visto che abbiamo visto i capelli direi subito di legarli così non ci rompono le maronas perfetto li ho legati davvero incredibilmente bene guardiamole la faccia allora mi sembra che questo occhio qua sia leggermente più piccolo ho sbaglio praticamente mi è capitato anche con Emy che con Emy si nota molto di più queste qua che hanno lo sguardo un po' più accattivante hanno un occhio più grande e un occhio più piccolo non so se capita a me o magari anche a qualcun altro allora ha la bocca qua con questo rossetto qua bellissimo niente riga valorda ottimo è bellissimo poi ha sempre questo color corallo un po' di oro un po' di arancino sopracciglia super marroni e poi tutti questi cappelletti qua che le escono disegnati sempre dei colori che ha qui molto belli molto molto belli poi prima stavo notando le unghie che sono tutti colori praticamente come nei capelli anche nelle unghie dettaglio che apprezzo molto perché è molto bello un po' di impegno in più qui ok e adesso poi tiriamoli le gambe a po' no ma perché è così molle no è mollissima questa no questa si toglie subito ma no ma perché mi fate questo vabbè l'importante è che se la muova non si toglie tanto poi la lascio lì sullo stand però magari metto qualcosa qui per indurire il passaggio non lo so vabbè ti pare ti pare vabbè queste cose le scopri quando una volta che la bambola è in mano non quando è nella scatola porcaccia la miseria ah quando fanno queste cose qua balorde mi girano le balle comunque ciabattine molto carine molto carine perfette con tutti i suoi colori ci stanno benissimo con l'outfit e gli accessori tipo occhialetti e borsa queste mi piacciono molto le lascio su poi le metto dopo sempre che non mi parte via questa gamba ora vediamo qua il pareo il coppicostume il cavolo che è molto carino molto carino è un tessuto molto leggerino il cavolo di tessuto è chiudiamo un attimo molto carino mi piace molto questa parte sì questa parte è molto carina che va giù con un bello spacco a punta è anche dettagli in oro molto carino e poi vediamo il costumino allora sono curiosa di vedere che coloro sono le mutande sono tutte rosa ok sono tutte rosa e poi sempre il costumino con tutte quelle sfumature che ha un po' dappertutto molto molto bene per bellissima bellissima peccato per questa cosa cioè guardate che facilità va via la gamba questa già meno ma questa porcaccia la miseria vabbè vabbè ah voglio vederla un attimo con sugli occhialetti allora un orecchio di qui un orecchio di qui vediamo molto carini ma non sono nemmeno tanto dritti perfetto questa bambola qua sta dando un sacco di emozioni e cosa ci devo fare io cosa ci devo fare cosa ci devo fare niente niente e si creano così belli questi occhialetti ma quindi sono gli occhiali storti o sei tu storta non lo so se farò l'addrizzo un po' la testa non lo so ma non glieli tengo su penso proprio di no perfetto molto più bella così magari qua in testa no non lo so non lo so adesso la imbacucco e andiamo a prima di tutto le slego questa cosa qua che ha nei capelli vedete questo cosino qui e poi qua c'è un pelucchio ah no il pistolo qua della scatola e poi le lavo i capelli andiamo dalla parrucchiera molto molto bene perfetto allora i capelli sembrano diventati molto molto morbidi e per quanto riguarda i capelli che se ne sono andati abbastanza una bella ciocca e poi e poi e poi e poi ovviamente foto di rito very well e adesso le rifaccio le tampone i capelli e tutto e le rifaccio comunque una bella codina sopra e poi le rimetto il suo codino perché è davvero molto bello e poi vediamo ancora due robine molto bene ok allora eccola qui con la sua pettinatura le ho fatte la pettinatura così ho da dire qualche robina mentre dopo averle lavato i capelli appunto che l'ho tirata su ok per portarla da una stanza all'altra continuavo a perdere la gamba quindi mi sono girata un po' e che cosa ho fatto allora vi faccio capire con qua allora vedete qua adesso non lo faccio perché ormai l'ho piantata dentro qui ecco su questo pezzettino qua della gamba ho preso un pezzettino una striscina di scotch e ce l'ho girata attorno appunto proprio dove il segno qua a questo rubino qua che esce e poi ho infilato la gamba così da avere leggermente più spessore e la gamba incastrarsi di più che balle però che balle però lei è molto bella però comunque secondo me ha un occhio più grande ha un occhio più piccolo qui qui davanti secondo me c'è un titino in meno di capelli c'è un po' il bus poi ha un bel ha un difetto molti difetti questa bambolina mi dispiace perché a me piace molto questa bambolina però che ci deve fare ormai qui con me vi faccio vedere la pettinatura lei ha ancora i capelli totalmente bagnati ma comunque sono lisci un po' sbarazzini sulle punte ma va bene e poi quando le stavo rimettendo il suo codino nel farla a cota si è spezzato penso il codino l'elastichino dentro il codino e si è tutto aperto tipo così e ho fatto i giri finché non si è bloccato perché comunque sotto ho messo un altro codino ok ed eccola qui cioè mi spiace mi spiace davvero però comunque a vederla così va benissimo non ho come si dice mi va benissimo comunque è bellissima molto molto bene penso che le metterò gli occhialetti qui sopra tipo come l'ho detto tipo così non è giornata non è giornata prima ci stavano su adesso no vabbè comunque avete capito dove voglio metterli perfetto poi qua c'è la sua borsina le sue gambe con le piedi piatti guardate che carina molto molto bene adesso mi sono un po' girate le balle sto stufa chiudiamo il video perché non sono addietro da davvero tanto tempo a cercare di sistemare pezzi che non dovrai sistemare Pomettino ti piace? sei soddisfatto? molto molto bene io vi ricordo instagram e link amazon giù nell'info box quasi sono troppi ciuffi lunghi ecco molto molto bene tanto che tagliuzzo Pomettino saluta bravo io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 Grazie a tutti.